Scendono ancora i ricoveri in Puglia ed è sicuramente questo il dato più importante che emerge dal bollettino Covid giornaliero in cui sono stati registrati 684 nuovi casi di positività a fronte di circa 8000 tamponi effettuati, 242 nuovi contagi attribuiti alla provincia di Bari, 154 in quella di Lecce, 106 nel Tarantino, 74 nel Foggiano, 59 in provincia di Brindisi e infine 36 nella BAT. Il totale dei casi da inizio pandemia sale 1.466.825. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 5 vittime del virus ed il totale dei decessi sale a 9.055. Nel complesso sono 8 i ricoveri in meno rispetto alla giornata di ieri, sono 116 i pazienti nei reparti non critici della regione mentre le terapie intensive occupate sono 10, gli attualmente positivi scendono ancora anche se levemente ed oggi si attestano a 10.468, 703 infine i negativizzati riportati nell'ultimo bollettino Covid.